Allora Eugenio Venetazzo, abbiamo parlato in questi giorni non solo di regionali e di comunali e di altri problemi ma anche di economia e come ricordava qualche sms lei ha previsto spesso come sarebbero andate le cose. Tutte le volte le chiedo di fare il punto perché insomma adesso c'è Draghi che dà 60 miliardi al mese di titoli pubblici alle banche e si dice che la ripresa sia in atto però nel frattempo ogni giorno noi diamo notizia di un suicidio l'ultimo della serie è l'imprenditrice titolare di un'azienda di trasporti che si è impiccata ma ce n'è uno al giorno ormai praticamente. Beh si sta verificando la ripresa nel senso che sta riprendendo a crescere il montante di debito pubblico italiano. Ah ecco in quel senso quella è la ripresa. Siamo a 3 miliardi adesso da record storico che è 2.168 miliardi che risale alla scorsa estate e questo ci dovrebbe far riflettere tutti quanti perché se ci pensate dopo la dipartita di Berlusconi il debito pubblico italiano come montante è aumentato in tre anni circa di un 10% quindi non c'è stata nessuna forza politica o governo che è stata in grado di intervenire per interrompere al clock cioè quindi a questa posta contabile di continuare a salire e questa sappiate che è una priorità nazionale perché va ad impattare tantissimo poi sulla fiscalità del paese. stiamo vivendo una fase di limbo finanziario grazie a due interventi di natura esogena da una parte c'è la discesa del prezzo del petrolio che sta creando un tesoretto nelle tasche delle imprese e delle famiglie che è stimato intorno a 1% del PIL nazionale più poi il nostro grande banchiere Mario Draghi sta aiutando chi governa in questo momento qua a risparmiare altri 12-15 miliardi all'anno in termini di oneri finanziari quindi tutto sommato possiamo dire che può sembrare che Renzi stia facendo bella figura in realtà i risultati che possono essere snocciolati per il paese richiamano a questi effetti benefici sulle tasche tanto dei contribuenti, delle imprese e poi anche di chi governa il paese. Mi permetto di fare due osservazioni che penso possano aiutare a chi è a casa a comprendere i prossimi rischi che abbiamo davanti. Il primo è questo, si stanno creando proprio per le ragioni legate all'abbassamento sistematico e strutturale di tasse di interesse dagli Stati Uniti passando per l'Inghilterra arrivando poi all'Unione Europea di un'altra bolla che probabilmente potrebbe andare a esplodere verso fine 2016, primi 2017. Per quale motivo? Perché visto che noi come risparmiatori, chi investe denaro per conto proprio, per conto terzi in questo momento sta andando a ricercare che cosa? Redditività, interesse, immagino anche voi stessi per le vostre esigenze se avete delle disponibilità di denaro cercate dei investimenti che possano remunerare questo denaro i tassi di interesse ormai sono pavimentali un BTP italiano a 10 anni rende meno dell'1% quindi di fatto non c'è la possibilità di andare a ottenere remunerazione finanziaria cosa che invece ha caratterizzato gli ultimi 3 anni quindi si stanno alimentando forzatamente delle bolle finanziarie soprattutto nelle borse occidentali perché? Perché al momento attuale il flusso di dividendi medio che viene erogato dalle aziende quotate è notevolmente superiore ai interessi che magari può dare un debito, un'obbligazione di Stato, un'obbligazione governativa quindi si sta ricreando lentamente una condizione di sopravvalutazione di tantissime asset class che probabilmente quando finirà la famosa cura Mario Draghi chi si troverà con il cerino in mano all'ultimo momento andrà a innescare questo tipo di eventualità secondo, vi ricordate per quale motivo adesso stiamo vivendo questa situazione di criticità sociale finanziaria e economica in Occidente e negli Stati Uniti tutto è partito proprio da là nel 2007 quando qualcuno cominciò a parlare dei famosi mutui sabba prime i mutui sabba prime allora quando detonarono rappresentavano il 3% cioè quelli che furono legati al crash finanziario di Lehman Brothers rappresentavano il 3% del totale esposizione debitoria che avevano le banche e le famiglie nei confronti di intermediari finanziari quindi 3%, quei famosi 750 miliardi di dollari nel 2008 a metà settembre in Asia in questi ultimi 4 anni si è andata a ricreare una situazione molto simile se non peggiore cioè sostanzialmente per spingere le famiglie cinesi quelle della low class quindi chi ha disponibilità economica abbastanza contenute a acquistare un'abitazione hanno potuto accedere a fonti di finanziamento particolarmente agevolate a condizioni in cui la qualità del debito erogato era tutto sommato molto discutibile e quindi stiamo vivendo in Asia una situazione di parallelo economico quanto era accaduto negli Stati Uniti tra il 2007 e il 2008 e quindi? ora, noi sappiamo benissimo che purtroppo per noi occidentali conoscere la natura e soprattutto lo stato di salute che può avere quell'economia è abbastanza difficile proprio per la censura che fa il Partito Comunista e così via discorrendo ma i rischi che da qui a due anni noi andremo ad avere una convergenza spiacevole ma veramente molto spiacevole che andrà a colpire tutti quanti relativamente ai mercati asiatici e del sud-est asiatico causa bolle immobiliare che è andata a formarsi pariteticamente negli Stati Uniti anche in Asia sempre per le stesse ragioni cioè scassa qualità del credito affidato e poi Europa che esce o forse entra in un periodo di recessione e depressione con Stati Uniti che non riusciranno più a beneficiare di quel traino storico perché l'Asia si arresta l'Europa vive con le problematiche proprie strutturali interne noi rischiamo di arrivare nel 2016, fine 2016, inizio 2017 a vivere un periodo di crisi economica strutturale che sarà 5 volte superiore a quella che abbiamo vissuto tra il 2007 e il 2008 e ci sono tutti, e questo non è che lo dico io perché ci sono tutti ormai gli osservatori economici che continuano a lanciare Moniti l'ultimo recentemente proprio della Lagarde del Fondo Monetario Internazionale di 48 ore fa che hanno detto stiamo ricreando le condizioni per rivedere fra massimo due anni una situazione di cresce finanziario globale peggiore di quella che abbiamo vissuto quindi queste sono le aspettative che abbiamo davanti tanto come investitori quanto poi anche come imprenditori non parliamo poi per chi governa un paese debilitato questo è importante forse saperlo come contribuenti italiani l'Italia oggi non è più in grado di reggere a uno shock esogeno come quello del 2008 perché? perché andrebbe incontro a incapacità della fiscalità diffusa di far fronte a spese necessarie tra 50, 60, 70 miliardi di euro adesso non lo siamo più in grado di sostenere siamo rovinati sparare sempre